Nel 2004 erano 600 gli accessi allo sportello in forma famiglie, mentre nel 2013 se ne sono contati più di 8.000. Questo dato dalla misura dell'ampliamento dei servizi che il Centro per le Famiglie del Comune ha effettuato in 20 anni di attività. Diversi stand, una mostra e numerose attività per adulti e bambini costituiscono il ricco menu offerto ai piacentini sotto Palazzo Gotico per tutto il giorno. Abbiamo da un lato rafforzato anche la collaborazione fra le stesse associazioni per un progetto di genitorialità condiviso e abbiamo anche potenziato gli orari. Per esempio lo sportello in forma famiglie e bambini dalla nascita nel 2004 ha ampliato l'orario di apertura, l'ultimo abbiamo un orario continuato il mercoledì dalle 9 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno per andare incontro alle esigenze di chi lavorava e nell'orario dalle 9 a mezzogiorno era un po' stretto e questo ha portato ad un aumento esponenziale. Abbiamo potenziato i servizi relativamente alla neogenitorialità aggiungendo anche un servizio di consulenza legale gratuita e in continuità abbiamo portato avanti i servizi legati alla mediazione familiare, alla mediazione interculturale e quindi cerchiamo di essere sempre più presenti e visibili.